E' Ignazio Bonanno alla barra della superbia ITA 416 a salire sul gradino più alto del podio della nazionale J24 di Marina di Carrara e vincere il trofeo Challenge Fabio Apollonio. Con 5 primi su 7 prove, il J24 della Marina Militare si è imposto sul secondo classificato, l'ITA 271 Joanna del club nautico Cervia, timonato da Andrea Collina. Bronzo per il giallo-blu Luca Macchiarini al comando di ITA 483x5. Gli equipaggi della classe J24 sono scesi in acqua a Marina di Carrara dove i 18 scafi sulla linea di partenza hanno disputato tutte e 7 le prove previste per il trofeo dedicato all'ex presidente della classe e velista del team azzurra. Questa era la terza tappa del circuito nazionale 2024 dopo 10 appuntamenti da marzo a novembre nelle più belle località italiane. Una gara, la J24, che il club nautico Marina di Carrara organizza da oltre 30 anni.